Il progetto è quello lì? Quello lì è solo una parte. Il progetto c'è una ragazza che viene disegnata. Praticamente viene una mano che semina. Facciamo la terra con i semi e poi tutte le piante. Sono tanti quadri o è un continuo? Non è proprio un disegno unico. È uno sviluppo di tanta zona. Il concetto è la biodiversità. Facciamo tante piante che producono cose diverse. La stessa pianta viene fuori l'uva, la mela, l'umaca, l'umano. Eccetera eccetera. Qui partiamo con l'alba e la mano che semina. La mano gigante che semina. Dopo là in fondo c'è il tramonto. La stessa pianta viene fuori l'uva. 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 Can you keep the blood up on the water Didn't fall to die You gotta risk the third blood School of consequences to the lay Checking for the stars into the ground We all are in the dark tonight You know what I mean Stay away from the dark Even took us so far We all are down Can everything be mine Can everything be so far If you don't care about the dark This has been a bad situation To work hard Put your teacher on your colleagues Daddy You're a kid That ain't for guys You have to feel free You're a kid 囀 곳 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti